A CIS invece era presente anche il secondo reggimento al Pini di Cunio a ritorno nella città in cui il reparto è nato, pensate, 139 anni fa durante i quattro giorni della manifestazione. Il secondo reggimento al Pini di Cunio ha partecipato a Bra nella città in cui il reparto è nato 139 anni fa e di cui è cittadino onorario all'edizione 2021 di CIS con 15 militari. Il contributo fornito si è tradotto nel supporto alla polizia locale e al comitato organizzatore per garantire il controllo dei varchi di eccesso all'evento, la sicurezza dei visitatori ed evitare il crearsi di assembramenti. Inoltre in Piazza Roma il secondo reggimento al Pini ha realizzato una mostra statica di mezzi tattici in dotazione alle truppe alpine e un infopoint presso il quale il personale qualificato ha svolto attività promozionale e di reclutamento. In mancabile l'installazione di una palestra di arrampicata artificiale dove supportati da due istruttori militari di alpinismo i cittadini hanno potuto cimentarsi con corde rinvia pigli provando per poche ore la quotidianità addestrativa degli oltre 11.000 alpini. Quest'anno l'esercito italiano partecipa a CIS fornendo un supporto al comitato organizzatore e all'amministrazione comunale fornendo del personale che sarà addetto al controllo dei varchi al fine di limitare gli assembramenti e regolare gli afflussi alla fiera. In Piazza Roma è stato allestito uno stand promozionale dove vi sono esposti dei principali mezzi tattici in dotazione alle truppe alpine, una palestra artificiale di roccia dove qualificati istruttori militari di alpinismo faranno arrampicare i cittadini e un infopoint per dare informazioni sull'arruolamento. All'interno dell'area fieristica vi è un ulteriore stand dove è esposta la cucina campale in dotazione all'esercito italiano e uno stand dove è data ampia esposizione alla cosiddetta alimentazione del soldato.